Ci ho provato, ce l'ho messa tutta, mi sono rimessa di nuovo in gioco per la seconda volta, ma io così, cioè se dopo devo trovare delle persone che dall'altra parte, io non è possibile, ma non è possibile, Diego, tutte le cose che mi hai detto, le parole che mi hai detto, vengo a lavorare nel tuo negozio, sto alla cassa, sto con te, le fotografie, ma Diego, queste cose me le hai detto tu, me le hai detto tu, me le hai detto tu, me le hai detto tu? Ho spiegato me e addirittura farmi passare per una bugiarda che si è, non lo so, in tre settimane queste cose, Diego, ma le hai sentito come hai parlato fino adesso di me, ma uno che dichiara amore almeno una volta si fa sentire in una settimana sei proprio sparito, quando mi hai mandato tre messaggi, ma io lo sai che facevo per amore, Diego, i chilometri, lo sai che cosa facevo, mi tremava la pietra, la terra sotto i piedi, ma tu non puoi parlare se non sai cosa facevo, non lo sai che significa la parola amore, sto a parlare, devi smettere, devi smettere, ti è tovo per te, devi smettere, con me non passi così, con me non passi così, non infagni la gente gratuitamente, capisci? No, no, sei un bufone. Non sei provato.